Buongiorno ragazzi, bentornati sul canale, sono Paolo di Wild Life Italian Division e oggi ho il piacere di presentarvi il Rook di Simone Tonolli. Per chi non lo conoscesse, questo è un coltello utility, Real Utility Knife appunto il nome, ed è il coltello che ogni escursionista, ogni tracker dovrebbe secondo me avere con sé nello zaino. Tra l'altro se state cercando il coltello compatto, affidabile, leggero, che possa svolgere una serie infinita di piccoli lavoretti da bosco, dal piantare il tarpa, all'accendere un piccolo fuoco, al panino, al taglio del cibo, ragazzi la vostra ricerca secondo me con un coltello del genere può considerarsi conclusa, perché il Rook è veramente un coltello utility che si fa apprezzare a 360 gradi e calza perfettamente su ogni tipologia di mano. Facciamo una premessa, il coltello è fatto da Simone, Simone Tonolli, che saluto, ciao Simo, e ho conosciuto Simone durante il primo raduno della Black Flag. La Black Flag praticamente è un gruppo di appassionati, di utilizzatori e maker, uniti appunto dalla passione per i coltelli e per l'escursionismo all outdoor. Nella Black Flag, per farvi qualche nome, c'è Floriano, c'è Ramon, ci sono io, ci sono alcuni noti maker, tra cui Simone, Mauro Miliano, Stefano Neri, Fra X Knife, che è delle mie parti, quel matto di Fra, c'è Giuseppe, c'è Andrea, tutti escursionisti, tutta gente che ama il bosco, ama i coltelli, ama vivere, diciamo, la vita all'aria aperta, in cui il confronto a livello di coltelli, geometrie, acciai, così è sempre acceso e costruttivo. Questo per dirvi cosa? Per dirvi che durante questo raduno Simone ha portato il Wild Moose e il Rook e alla fine tutti, durante quei tre giorni, ci siamo ritrovati per un motivo o per l'altro a vedere sto coltello sempre in uso per fare i ricciolini, per tagliare il salame, per tagliare il cibo e ci siamo, io almeno mi sono reso conto, che un coltello del genere, così polivalente e così compatto poteva essere la soluzione per il tipo di attività che svolgo io, ideale. Vi do due misure, il Rook è un coltello fisso a 18,5 cm di lunghezza totale con 8,5 cm di lama e 3 mm o 3,5 mm di spessore, poi vi metto le specifiche. Manico in G10 con guancette smontabili, si può vedere da questo tipo di perno non vi consiglio di smontarle perché Simone, se ricordo bene, mette il freno a filetti quindi diciamo che a meno che non lo vogliate provare a paracordare il coltello in mano è già più che confortevole e così. Acciaio utilizzato è il Neolox con questa bella finitura al CNC taglio a rasoio per un profilo assolutamente sfruttabile a 360 gradi io gli ho messo questo cordino, poi vi farò vedere come lo sfrutto ed è un coltello che ci permette di lavorare tranquillamente su tutti i piccoli lavoretti, diciamo, da utility non ha spigoli vivi, ok, quindi non è utilizzabile con l'acciarino però diciamo con un minimo ingombro ci possiamo portare la palettina e problemi non ce ne sono. Il fodero è il fodero in kydex con una ritenuta perfetta ed ha, io l'ho richiesto con questi due clip per il porto scout orizzontale ovviamente me lo tengo sul fianco destro io essendo mancino e lo estraggo facilmente, diciamo, lo tengo sotto la maglietta e lo estraggo facilmente con una mano c'è anche la clippettina sempre in kydex con l'attacco alla cintura per il porto verticale il fodero è veramente fatto bene non ha, tra l'altro, guardate la precisione con cui lavora Simone ha lo scolo per l'acqua e non ha bisogno, secondo me, di tanti attacchi supplementari ha i suoi due attacchi per i lacci compatibili con l'attacchino diciamo a clip o eventualmente per un multi clip o un tech lock quindi semplice, compatto e leggero il coltello ha una manicatura leggermente bombata qua nella parte finale del codolo e, diciamo, lavora molto bene nei lavori, diciamo, di penetrazione del legno ma nel momento in cui bisogna andare a spingere per la mia mano risultava leggermente piccolo quindi ho messo questo laccio che può essere usato sia come laccio, diciamo, per appendere il coltello o infilarci un dito per evitare che scappi ma il chopping non è consigliato anche perché il peso è veramente irrisorio praticamente cosa succede? questo laccio me lo metto all'interno della mano dove questi due pallini vanno ad aggiungere lo spessore che serve a me per avere una presa più salda e non far scivolare il coltello sembra una cavolata ma con questa soluzione io mi trovo veramente bene se no l'alternativa era un giro di nastro o il solito laccio elastico che viene messo qua in fondo per ingrossare il manico però così, diciamo, ho evitato di aggiungere materiale sul manico e ho guadagnato lo spessore che mi serviva per avere una presa salda questo ragazzi è un coltello che secondo me ne ha parlato tantissimo anche Floriano c'è una versione simile che è il RAM ma in questa versione qua quindi con la punta classica secondo me è la versione classica rispetto agli altri che fa Simone è la versione consigliabile tra l'altro anche questo incavo per l'alloggiamento dell'indice che è veramente comodo e va a fare una sorta di guardia quindi il coltello è assolutamente saldo in mano parliamo di un coltello che costa una cavolata considerate che al momento sul sito di Simone va a 125 euro per un coltello artigianale tra l'altro marchiato sia vicino alla guardia che sul fodero un coltello artigianale di un maker italiano in Neolox quindi 125 euro ragazzi secondo me è da prendere al volo se il Neolox non vi piace ha un prezzo maggiore ve lo fa anche in Magnacat poi in base alla disponibilità e ai tempi di attesa vi consiglio di chiedere direttamente a Simone ma la cosa che mi ha colpito maggiormente di questo coltello è la fruibilità ovvero è un coltello che un escursionista quindi chi ha bisogno di poco ingombro perché magari il coltello durante il trekking o l'uscita giornaliera neanche lo userà però questo è quel coltello che difficilmente si lascia a casa non ingombra niente io l'ho portato tutta l'estate con il porto scout sotto la maglietta in tantissimi video che ho fatto su Instagram ho questo coltello sotto la t-shirt quindi se voi non avete notato nulla io vi garantisco che non dà nessun tipo di ingombro nel fodero sta benissimo non ha nessun tipo di gioco e accompagnato ad un seghetto o un chiudibile diciamo che svolge tranquillamente le funzioni primarie del coltello ovvero tagliare e tagliare bene tra l'altro Simone affila a mano a pietre giapponesi se ricordo bene potete vedere tra l'altro quanto è attento ai dettagli e la stessa cosa è riportata nell'affilatura quindi coltelli che arrivano affilati al rasoio tengono benissimo il filo io ho dato solo qualche stroppata con un po' di compound ma a più di quello non ho sentito la necessità di fare anche perché è un coltello che arriva che già taglia molto bene lo spessore ci permette di lavorare tranquillamente su ciocchi di legna anche di tre dita e ho qualche video su Instagram se lo volete recuperare per darci un'occhiata insieme al Mora Garberg dove vado a sezionare un ciocco di discrete dimensioni quindi ben superiore nella portata alla capacità di penetrazione in batoning del Rook usando la tecnica dei listelli quindi con un po' di pazienza questo è un coltello che ci permette è un po' di tecnica è un coltello che ci permette di sezionare tranquillamente anche diametri molto superiori questo per dirvi cosa? che il coltello piccolo è un coltello che si fa rispettare se fatto bene se studiato bene anche i lavori diciamo un pochettino più pesanti nonostante non siano propriamente il suo scopo questo è un coltello intelligente Real Utility Knife appunto studiato per svolgere tutti quei compiti che durante un'escursione o un trekking deve svolgere un coltello quelli gravosi li lasciamo magari all'accetta e al segaccio pieghevole e un coltellino del genere con una spesa minima secondo me merita assolutamente attenzione tra l'altro ragazzi torno a dire Simone ha un sito fatto molto bene date un'occhiata al sito oppure contattate direttamente Simone perché il RUC è un coltello che veramente si fa apprezzare lo sto dicendo io ma l'hanno detto anche in tanti chiunque abbia questo coltello se ne è trovato assolutamente bene anche perché oggettivamente svolge una marea di compiti in dimensioni e peso talmente ridotto che veramente stupisce io vi ho detto tutto vi ho detto quello che ne penso se voi avete provato questo coltello fatemi sapere la vostra e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti grazie a tutti